signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine solito usuale totale e consueto della mia libreria da un metal mic particolarmente felice particolarmente gongolante particolarmente contento e soprattutto caricato a pallettoni perché perché come si suol dire mi hanno servito un fenomenale assist per tirare veramente un gol a porta vuota di quelli clamorosi la difesa avversaria mi ha servito un meraviglioso pallone sui piedi e che razza di interista sarei se non ne approfittassi va bene signori va bene va bene va bene forse alcuni di voi avranno capito a chi mi rivolgerò con questo video ed è presto detto allora vi ricordate quando l'altro ieri avevo postato il video in cui spiegavo che alcuni commenti erano stati cancellati misteriosamente vecchio gufo aveva visto sparire alcuni suoi commenti john mariani aveva visto sparire altri suoi commenti si trattava di commenti assolutamente innocui si trattava di commenti che erano del tutto normali del tutto relativi all'argomento che si trattava ovvero sia la colt m 1911 e la browning modello 35 hp high power a grande potenza insomma che cosa è successo come ho già detto erano spariti dei video io ho spiegato che non li avevo cancellati ho spiegato che non è la prima volta che succede l'ho detto più 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 e più volte ho detto semplicemente che io non cancello mai nessun video nemmeno quelli in cui vengo insultato e come sempre qualcuno non ha perso occasione per stare zitto non ha perso occasione per fare una brutta figura non ha perso occasione per darmi il destro per uno dei miei mitologici video per culatti insomma uno dei mitologici insomma uno dei video in cui prendo in giro sanguinosamente chi se lo merita prendo in giro chi dice cazzate storiche chi dice cavolate soprattutto sul mio conto che cosa è successo ve lo spiego subito signori allora signori ve lo dico subito poche ore dopo aver postato quel famoso video tale signor alessandro bellante mi dice ma stai zitto che sei tu che li cancelli e lasci solo quelli che ti fanno comodo o che puoi prendere in giro se ti vuoi suicidare sono cavoli tuoi detta così com'è allora chi ti smonta i video e fa vedere che dici solo cazzate piene di retorica come se avessi vissuto in prima persona quegli eventi li cancelli vergognosi i tuoi video vergognoso tu zecca comunista basta pubblicare video panzane scusate ma la punteggiatura un po' è assente eh ci battemmo con coraggio contro nemici capitalisti con centinaia di fabbriche e manodopera a basso costo forse un giorno pubblicherai un video intelligente fino a v allora senza apostrofo limita a parlare di calcio capra scusate notate la sciarpa dell'atletico madrid che gongola notate la sciarpa del monaco 1860 che ride notate le sciarpe dell'inter e del west ham che stanno sghignazzando notate la felpina sempre del monaco 1860 che si sta divertendo pregustandosi la scena allora 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 il signor alessandro bellante non ha una grande stima di me è evidente logico insomma sai che palle se piacesse a tutti so benissimo di non piacere a tutti non mi interessa nemmeno di piacere a tutti che cavolo me ne frega me di piacere a tutti ho le mie opinioni le espongo chiedo nei commenti come sempre di essere o contraddetto o come dire insomma di implementare quello che dico ma evidentemente questo a certi signori non basta non basta non basta allora il signor bellante continua no al contrario tuo non ragione per tifi o fazioni nella tua cioè mia piccolamente da cavallo che hai paraocchi non capisci che i miei sono dati e fatti storici tu te ne vedi bene di parlare di certe cose che ometti volutamente nei tuoi video io al contrario tuo sono obiettivo tu sempre di parte talmente tanto che in un tuo delirante video giustifichi e santifichi le due bombe atomiche sul giappone o il bombardamento di dresda magari youtube cancellerà anche questo commento vero signor spadoni di picche signor bellante signor bellante ma perché si vuole coprire così di ridicolo perché 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 si vuole coprire così di ridicolo allora le dico semplicemente una cosa come le ha detto già il signor francesco loi se io fossi comunista col fischio che santificherei le bombe sul giappone nota bene una cosa io non santifico un accidente non santifico o beatifico le bombe atomiche sul giappone perché semplicemente semplicemente ho spiegato più volte nei miei video i motivi che spinsero all'uso delle bombe atomiche sul giappone un conto è santificare un conto è spiegare i motivi in maniera il più possibile chiara precisa e logica come ho cercato di fare con i miei limitatissimi mezzi ok per quello che riguarda il bombardamento di dresda cari signori se ne è detto e parlato più volte se il signor bellante fosse stato a sentire il video e avesse dato un'occhiata ai link che avevo postato nel video si sarebbe accorto che io non santificavo un'emerita mazza io non santificavo per nulla il bombardamento di dresda io l'ho semplicemente spiegato quello che era successo ma nella crapa di certi fenomeni questo non entra in quanto al mio essere di parte allora 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 il mio io sarò di di parte di parte di parte io ho parlato male di tutti quelli che se lo meritavano ho parlato bene di tutti quelli che invece se lo meritavano cioè se allora 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 i fantomatici argomenti che io nascondo che io non dico che io come si suol dire disinformo ok che cosa succede cioè si tratta delle solite cose il complotto i traditori bla 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 le solite cose che cosa non devo cioè che cosa non dico che cosa nascondo cioè allora allora l'italia paese povero paese agricolo paese poco industrializzato paese con una industria bellica a dir poco scadente e con una logistica pietosa e una catena di comando delirante per non dire demenziale e ripeto questo libro leggetevelo signor bellante legga questo libro ammesso e non concesso che lei non sia rimasto traumatizzato all'esame per il battesimo questo libro spiega il perché della vittoria alleata soprattutto come sistema economico dato che lei tira in ballo i paesi ricchi che avevano enormi risorse economiche soprattutto una sovrabbondanza di mano d'opera a basso costo per sua norma e regola signor bellante tanto per dirne una gli operai delle fabbriche americane che lavoravano per lo sforzo bellico statunitense in europa e nel pacifico erano pagati da tre o quattro volte di più rispetto ai nostri operai mano d'opera a basso costo allora escludendo come si suol dire la russia staliniana allora 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 parlando sempre di questo libro parlando sempre di questo libro mano d'opera a basso costo overi in questo libro ci fa vedere come la mano d'opera sovietica gli operai sovietici morissero letteralmente di consunzione ai torni o alla saldatrice pur di continuare a produrre per la macchina bellica dell'armata rossa per un semplice motivo perché non tanto per propaganda ma perché avevano provato sulla loro pelle quello che sarebbe successo se la germania avesse vinto la guerra ho citato più volte da questo libro le testimonianze di alexander werth che parlava di come tanti operai delle fabbriche belliche di armamenti sovietici trasferiti oltre gli urali si impegnassero al massimo delle loro forze e spesso anche oltre le loro forze per fornire ai soldati combattenti le armi con cui affrontare i tedeschi perché sapevano bene che se avessero vinto i tedeschi la russia l'anima del popolo russo l'anima la storia la stessa esistenza della russia sarebbe stata distrutta dal dall'odio tedesco dall'odio nazista questo era caro signor bellante la mano d'opera a basso costo mano d'opera a basso costo quella americana e inglese ripeto talmente tanto a basso costo da essere pagata dalle tre alle cinque volte di più rispetto ai nostri operai operai che morivano di fame nelle nostre fabbriche mentre gli operai inglesi e americani prima e poi anche i russi quando arrivarono finalmente i rifornimenti alimentari in massa anche agli operai russi i rifornimenti alimentari statunitensi e britannici anche agli operai russi dicevo gli operai americani e britannici e canadesi erano molto meglio nutriti e molto meglio pagati rispetto ai nostri però loro avevano una gran massa di operai a basso costo operai a basso costo tipo gli schiavi dei lager messi a lavorare nelle fabbriche del terzo reich eh la mano d'opera a basso costo gli alleati ricchi e potenti avevano ondate maree avevano avevano tsunami di operai sottopagati ripeto tipo gli schiavi di Dora Mittelbau dove venivano fabbricate le componenti delle v1 e delle v2 dove dove gli schiavi dei lager morivano crepavano di freddo di fame di percosse e di torture mentre lavoravano per il reich se non fosse stato per la mano d'opera servile ebrei italiani gli internati militari italiani signor bellante gli internati militari italiani 600.000 internati militari italiani costretti a lavorare come schiavi nelle fabbriche del terzo reich ma la mano d'opera sottopagata era tutta anglo americana e sovietica ve lo ripeto per l'ennesima volta prenda un accidente di telefonino o di computer digiti su google paghe operai seconda guerra mondiale e si faccia una tabellina di confronto tra le paghe di un operaio metalmeccanico italiano e le razioni di calorie a cui quell'operaio aveva diritto e le paghe e le calorie giornaliere destinate agli operai alleati verissimo nei primi tempi nei primi tempi gli operai nei primi tempi dopo lo spostamento delle fabbriche negli Urali la vita degli operai sovietici nelle fabbriche d'armi oltre gli Urali fu durissima e la fame era una presenza quotidiana in quegli stabilimenti ma dopo il 43 quando cominciarono ad affluire in massa i rifornimenti alimentari e logistici americani e inglesi la situazione migliorò e gli operai sovietici erano nutriti né più né meno come i loro omologhi anglo americani mentre la razione destinata ai nostri operai diminuiva arrivando sieno a 900 calorie al giorno ci va da lei signor bellante a lavorare al tornio o alla pressa delle fonderie Breda con 900 calorie al giorno quelle destinate ai nostri operai campando con cosa? con 500-600 lire al mese se andava bene mentre, ripeto, un equivalente un tornitore esperto faccio un esempio un tornitore bravo ed esperto della Breda dell'Ernesto Breda prendeva, se non ricordo male 600-700 lire al massimo qualche cosa del genere al mese meno della metà di quello che prendeva un suo omologo alla Vickers in Inghilterra o alla Ford in America praticamente praticamente gli operai c'è tanto per dirne una ne ho parlato già una volta il famoso stabilimento Ford di Willow Run dove si costruivano i B24 lì le maestranze venivano pagate il triplo di quello che veniva pagato un operaio specializzato italiano cazzo ma 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 l'Italia fiera gloriosa guerriera fascista eccetera eccetera dichiara guerra a nazioni che avevano stormi di operai sottopagati mentre i nostri cari alleati germanici gli operai non li pagavano nemmeno perché li facevano morire di fame nei lager usando usando i prigionieri dei lager come schiavi e ripeto i nostri 600.000 internati militari italiani erano tutti o quasi costretti a fare gli schiavi nelle fabbriche d'armi polacche o tedesche dove tanti di loro morirono di fame di freddo di consunzione di fatica lavorando come schiavi ma gli operai sottopagati ce li avevano solo i russi gli inglesi gli americani magari anche i canadesi signor Bellante signor Bellante ma lei si rende conto delle cavolate che dice e poi io vorrei sapere quali accidenti di dati di fatto lei porta io nel corso dei miei video ho ho fatto vedere e postato centinaia di libri ho fatto vedere quintali di dati ho fatto vedere tonnellate di riferimenti bibliografici e storiografici sia dei vincitori che dei cosiddetti sconfitti ma no io sono una zecca comunista ed esalto e benedico i bombardamenti di Dresda di Hiroshima e di Nagasaki questo è un errore enorme caro signor Bellante perché io non è che giustifico o esalto io spiego semplicemente i fatti per quello che ho visto per quello che ho letto per quello che ho potuto capire ma io sono di parte si guardi allo specchio e si renda conto che sta facendo la canonica figura dell'ancor più canonico Bove che dice cornuto al canonico Somaro signor Bellante si renda conto di avere fatto una figura di merda si renda conto di avere detto un sacco di castronerie si renda conto che qua se c'è uno fazioso se c'è uno che non sa le cose se c'è uno che veramente dice castronerie non sono io ripeto mi accusa di cancellare i video si faccia un giro in tutta la timeline del canale un esempio il famoso video su Ella Lamain quello che ho fatto col maggiore con l'aiuto preziosissimo indispensabile del maggiore della folgore Simone Ponti si vada a fare un giro nei commenti di quel video cialtrone e guardi quanto cosa mi dicono per avere espresso un parere su certe falsità storiche anche grazie all'aiuto di una fonte al di sopra di ogni sospetto come un ufficiale della brigata paracodutisti folgore no 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 ma io cancello i video scomodi io cancello che mi sputta io non ho mai cancellato niente se lei signor Bellante si fosse preso la briga di leggere i commenti precedenti ai suoi si accorge che decine di persone hanno detto le stesse identiche cose che ci sono dei commenti che spariscono tutto qua vecchio gufo che è uno dei più apprezzati utenti di questo canale non mi è mai stato ostile mai mai perché avrei dovuto cancellare il suo canale signor Bellante il suo messaggio su questo canale signor Bellante se lo chiede se lo chiede se lo chiede lei caro signor Bellante è in grado di emettere un singolo peto di libero pensiero o si limita a starnazzare a pappagallo le cazzate del mio caro arcinemico signor Bracobaldo non perdete mai occasione di coprirvi di ridicolo non avete proprio il minimo senso del ridicolo ma siete i benvenuti perché così almeno ci possiamo fare quattro risate alla facciaccia vostra dati di fatto me li faccia vedere questi dati di fatto il tradimento bene signor Bellante il tradimento degli ammiragli il tradimento dei generali il tradimento degli alti gerarchi il tradimento di questo Mussolini genio incontestato della politica tradito da tutti ma lei caro signor Bellante si ricorda del fatto che Mussolini ha detenuto per più di dieci anni il ministero della guerra il ministero della marina e il ministero dell'aeronautica detenendo tutte le leve del potere militare italiano e che tutti quegli uomini che secondo lei hanno tradito i traditori i traditori tanto cari a Trizzino a Baroni a Bandini a Ubaldo Croce a Pucciarelli eh ai suoi cari amici signor Bellandi eh Bellandi eh signor Bellante si svegli signor Bellante lei e quegli altri date del cretino a Mussolini perché dite che era circondato da traditori traditori che lui stesso si era messo attorno no no dieci anni Mussolini ha tenuto le redini di tutto il potere militare in Italia ripeto ministero della guerra ministero della marina ministero dell'aviazione e tutti gli uomini chiave di quei tre ministeri tutti gli uomini chiave delle tre armi dovevano le loro carriere a chi a Stalin a Churchill ad Aladier a Roosevelt o le carriere tutti i nostri alti comandi le dovevano una persona sola che si chiamava Benito Mussolini eh questo non le viene in mente che i cialtroni che avevamo al comando che i presunti traditori che avevamo nelle nostre altre sfere militari erano tutti personaggi che dovevano tutto a Mussolini e che se gli era scelti lui da solo di sua spontanea volontà volete tanto bene a Mussolini quelli come lei signor Bellante vogliono tanto bene a Mussolini liberissimi di farlo ma dicendo che era circondato da traditori gli fate fare la figura del fesso e Mussolini tutto era tranne che fesso quando si trattava di mantenere il potere Mussolini ve lo ripeto tutta quella gente i vari Cavagnari Pricolo Valle Corso Fuget Graziani Badoglio Cavallero Roatta Visconti Prasca Soddu eccetera 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 quella era tutta gente che doveva le loro carriere esclusivamente ad una persona ovvero sia Mussolini Cavalier Benito collare dell'Annunziata duce del fascismo primo caporale d'onore della milizia e primo maresciallo dell'impero quindi quando sostenete caro signor Bellante che Mussolini era circondato da traditori un argomento carissimo al suo amico Bracobaldo Croce e a tutta la supposta accademia delle supposte libertà supposte quello signor Bellante è proprio un modo per dare del cretino a Mussolini perché ripeto solo un cretino si circonda di traditori solo un cretino se se avesse fatto come dite voi che era gli altri comandi erano zeppi di traditori al soldo degli inglesi gli ammiragli con la moglie inglese l'ammiraglio con la moglie francese il generale questo quello e quell'altro signor Bellanti sveglia per piacere per piacere per piacere si renda conto semplicemente di aver detto delle enormi cavolate si renda conto di aver fatto una immensa totale totalitaria e soprattutto spassosissima figura di palta divertendo me divertendo soprattutto gli utenti di questo canale quindi grazie signor Bellanti grazie grazie di tutto cuore continui così le vogliamo bene grazie e soprattutto come sempre commentate qua sotto commentate 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 per favore commentate divertitevi a commentare vi aspetto vi aspetto e se soprattutto se vi sembro sadico non vi preoccupate lo sono quindi cari signori come sempre ripeto commentate divertitevi scatenatevi la banda del metallaro aizzata date il meglio di voi stessi vi prego dobbiamo divertirci insomma è un po' che non che non facevo di sti video perculatori quindi scusate ancora la tosse dicevo sbrigatevi signori commentate 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 che voglio farvi quattro risate quindi mi raccomando arrivederci al mio prossimo video e come sempre come al solito ciao ciao